Due teste possono pensare come una sola, due uomini possono cambiare la storia di un club. Il loro rapporto è un po' quello che c'è tra Terence Hill e Balspens. Michele Dalai racconta un legame indissolubile, fatto di gioia e tensione. Il Mono Burgos ha perso la testa! Due di uno, Ciolo Simeone e Mono Burgos. Martedì 27 alle 22, giovedì 1 alle 23 e 15 e venerdì 2 alle 22 e 30. Solo su Fox Sports. Grazie a tutti!